e buona prima ragazzi sono Tagalcone e sempre subito sono qui nel video sempre subito al manager sempre a mostrarvi delle tattiche che funzionano nel 21.4 oggi ho voluto fare un piccolo test tant'è che ho testato un modulo che funzionava nel database 21.2 per vedere se era possibile farlo andare anche nel 21.4 e così è stato non mi ricordo francamente se questo modulo l'ho trovato da qualche parte, l'ho inventato io ma mi sembra che forse l'avevo trovato in giro su FM Scout o nel web non ricordo francamente perché è passato tanto tempo da quando l'avevo scaricato tant'è che era uno dei primi moduli che circolavano se l'ho preso da internet ma mi sembra sia così, nel caso riesca a ritrovarlo vi lascio il link del download altrimenti lo copiate voi su FM nessun problema il modulo che andremo a vedere oggi è un altro modulo dove si difende a 3 dietro visto che sta spopolando ultimamente la difesa 3 in real life su FM è difficile trovare una difesa 3 che funzioni quindi ho cercato di testare più moduli a 3 anche perché nell'ordine numerico nella cartella delle tattiche di football manager c'è prima il 3, del 4 e del 5 quindi prima sta testando tutti i moduli a 3 dietro però alla fine cambia ben poco tra 3, 4 e 5 l'importante è che funzionino il modulo viste le caratteristiche e i ruoli inseriti ho pensato fosse adatto all'Atalanta e quindi l'ho testato con la DEA vi dico anche che ho avuto parecchi infortuni durante questa sessione tant'è che prima si è fatto il crociato Mele pieno male subito alla prima di Champions mi sembra e poi in allenamento se l'è fatto Malinoski quindi ho dovuto trovare una riserva di Mele nel mercato poi si è rotto Atebur ho dovuto trovare un'altra riserva di Atebur e poi ho dovuto prendere un sostituto di Malinoski il campionato siamo riusciti a vincerlo con la bellezza di 95 punti vincendone 30, pareggiandone 5 e perdendone 3 siamo il miglior attacco con 86 gol fatti e anche la miglior difesa con solamente 20 gol subiti la differenza reti è quindi pari al 66 come statistiche abbiamo Luis Muriel come capocannoniere vi dico già che questo modulo è devastante in contropiede appena si hanno metri di campo libero questa squadra ti purga che è una meraviglia il giocatore con il voto medio più alto è Luis Muriel con 7,22 faccio vedere anche le statistiche con Muriel che ha fatto 32 gol e 5 assist in 33 presenze da titolare e 15 da subentrato chi ha il maggior numero di assist è Robin Goldens chiaramente con 15 assist in 32 valide da titolare chi ha la miglior percentuale di passaggi incontrati è Mary De Miral con il 97% Luis Muriel è stato votato per 10 volte MVP Martin Deron ha ben 16 ammunizioni di espulsioni abbiamo un'espulsione per Deron, una per Attebur e una per Orsolini a livello di competizioni abbiamo vinto quindi la serie A team siamo stati eliminati in semifinale contro il Chelsea e in Coppa Italia ho perso in finale mi sono dimenticato di dirvi all'inizio ma come funziona in ogni video sto utilizzando l'ultimo database aggiornato che trovate sul sito di FM Scout che vi consiglio come sempre quindi se vedete dei giocatori che non sono più in una quadra o sono in un'altra è per questo motivo come in questo caso De Miral all'Atalanta la tattica di per sé è un 3-4-1-2 meno male come quella che utilizza l'Atalanta veramente con ruoli diversi in difesa abbiamo un portiere libero con il compito d'attacco senza istruzioni anche in questo caso abbiamo Musso e non più Gollini sempre per il database aggiornato abbiamo due difensori che impostano che sono larghi e un difensore centrale di difesa che sta al centro sono dovuti intervenire sul mercato perché i difensori che impostano l'Atalanta non ne aveva entrambi i difensori che impostano hanno istruzioni aggiuntive come vedete qua e nemmeno il difensore centrale di difesa le ha sulla mediana abbiamo due incontristi con il compito di supporto quindi devono fare semplicemente filtro alla difesa entrambi anche loro non hanno istruzioni sulla fascia come dico sempre i fluidificanti quest'anno funzionano di meno rispetto a FM20 quindi andiamo ad utilizzare due ali posizionati nella linea di centrocampo anche loro senza istruzioni aggiuntive come trequartista abbiamo un centrocampista offensivo con il compito d'attacco senza istruzioni aggiuntive e in attacco abbiamo il doppio centro avanti anche loro senza istruzioni aggiuntive come vi ho detto nella tattica del 3412 bulldozer il doppio centro avanti è una meccanica rotta su FM tuttavia è ricreabile in real life quindi è chiaro che se andate a utilizzare tipo una punta completa più in centro avanti siete magari più puliti su FM a livello di onestà diciamo però in real life è ricreabile tranquillamente doppio centro avanti quello che non è ricreabile è giocare come dico sempre senza attaccanti ma con tre trequartisti ad esempio un'altra cosa che vi dico sempre è che meno istruzioni date ai calciatori più è facile che apprendano subito i loro compiti all'interno del modulo quindi essendo un modulo senza alcuna istruzione aggiuntiva dovrebbero trovare subito la giusta familiarità come mentalità abbiamo positiva in fase di possesso abbiamo un'ampiezza larghissima dobbiamo giocare la palla negli spazi si parte palla a terra dalla difesa serie di passaggi standard ritmo di gioco più alto cross tesi a sto giro portare il pallone in area di rigore affrontare la difesa palla al piede e più disciplina in fase di transizione abbiamo fare pressing a tutto campo contropiede, passare le centrali e calciarla corta in fase di non possesso invece abbiamo una linea difensiva più alta con tanto di fuorigioco e una linea di pressing molto più alta ampiezza standard a livello difensivo marcatura stretta intensità pressing estrema e impedire passaggi corti del portiere vi mostro anche il calendario dove andiamo a vedere abbiamo avuto il mese di ottobre che è stato drammatico insomma è stato il classico mese che si baga su fm dove non si riesce a fare un risultato manco a pagare è anche vero che era un calendario davvero tosto perché avevamo roma inter via real juve via monaco e poi la partita più gevole l'abbiamo vinta con la salernitana come vedete è un modulo che tende anche a segnare abbastanza spesso non sempre si va a concedere gol se vediamo ad esempio dicembre tranne i tre gol subiti dalla Lazio il resto non ne abbiamo presi siamo riusciti a passare da un girone di Champions che era tosto perché comunque Bayern via reale Ajax non era male come girone abbiamo passato addirittura da primi con il Bayern che è finito in Europa League in semifinale ho perso contro un Chelsea anche in questo caso come vedete l'andata ha persa 1-2 dove ho dominato letteralmente tutto il tempo XG pari a 2-50 contro 0-48 del Chelsea al ritorno ho finito a 2-2 anche qui uguale XG 1-89 contro 0-84 del Chelsea però la Champions è fatta di episodi chiaramente il Chelsea ha sfruttato meglio le loro occasioni e ha vinto purtroppo la Coppa Italia l'abbiamo persa per 1-0 con un gol che era tranquillamente evitabile con ciò vi mostro i pregi e i difetti di questo modulo vi mostro ad esempio la partita negli ottavi di finale contro il Paris Saint Germain che sono riuscito a battere nonostante io sia passata per prima il Paris Saint Germain è passato secondo nel girone poi ho avuto anche lo United che sono riuscito a battere vi mostro ad esempio questa contro il Paris che ho vinto 3-0 ho basato la partita sul contropiede quindi mettendo cacciatori veloci in questo caso Golden va a recuperare pala la scarica subita l'Ammers che cerca Morel laterale e la va a insaccare va Morel supera Sergio Ramos di velocità va a tu per tu con il portiere e la insacca sul palo più vicino Verone riparte da dietro con Mancini Fabian sfrutta lo spazio lasciato dai difensori del Paris e l'Ammers la va a insaccare vi mostro anche sia il 4-1 con lo United sia il 5-2 persa contro lo United ma siamo riusciti a passare così vedete un po' sia i gol fatti e sia quelli subiti già contro il Paris si vedeva chiaramente che questa squadra se si sfrutta la velocità è micidiale lui Manzapata tira uno strapo centralmente la scarica Fabian che si gira e con il sinistro la va a insaccare sotto al 7 poi Chamberlain che sono andato a mettere contro l'United perché essendo una squadra inglese penso che possa essere quello più adatto su quella fascia poi sono andato a inserire Attevura vinti tutti i pali nell'area di rigore e Murel l'ha insaccata qua Galliardini recupera la palla Orsolini Fabian 1-2 anche qui fortuito Orsolini la va a insaccare il gol che andiamo a prendere parte da rimessa laterale con Tejes Paredes traversone dalla parte opposta Wan-Bissaka non viene marcato e lo va a insaccare lì mi sono arrabbiato tantissimo perché era novantesimo non si può non marcare Wan-Bissaka e poi prendere un gol fuori casa in Champions è pesante al ritorno ho stretto abbondantemente le piappe perché ci hanno demoliti a livello di risultato 5-2 Wan-Bissaka dalla fascia va a scaricarla dietro Sancho cross in mezzo Martial libero tra tre uomini la va a insaccare subito Chamberlain sulla fascia la va a inserire Fabian la scarica Muriel prima c'è la parata di De Gea e poi Muriel la va a mettere dentro per l'1-1 anche qui Tejes la larga Sancho lasciato ancora libero sulla fascia cross in mezzo Martial fa il 2-1 dello United Wan-Bissaka Van de Beek la scarica in profondità Martial brucia in velocità il numero 6 che penso sia Palomino e la va a insaccare Bruno Fernandes allarga ancora come vedete abbiamo tantissima difficoltà nei cambi di gioco da una parte dall'altra qua riusciamo a trovare il gol del 4-2 mi sembra con Juvan Zapata poi nei tempi supplementari Greenwood supera chiunque sulla fascia e la va a mettere in mezzo per Cavani in questi allies si sono visti i pregi e i difetti in questa tattica quindi i pro sono chiaramente le ripartenze veloci e le imbucate negli spazi che lasciano gli avversari i contro sono chiaramente che avendo una difesa con un'ampiezza standard non sempre si riesce a arrivare lateralmente sul uomo che sia o terzino sull'ala perché a centrocampo non abbiamo il più edificante ma abbiamo l'ala che è già messa in avanti quindi andiamo a rischiare di prendere superiorità numeriche sulle fasce con ciò se la provate fatemi sapere come vi trovate io spero che il video vi sia piaciuto se è stato qui lasciate un bel like commentate e condividete noi ci vediamo nel prossimo video nomeate lei bella regà ciao